Spada donne, bronzo per l'Italia. Cina battuta 23-21. L'Italia è medaglia di bronzo della spada donne a squadre, dopo aver battuto 23-21 la Cina. La squadra azzurra è composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, e l'ultimo dei tre incontro di Fiamingo è stato disputato da Alberta Santuccio. Spada donne, bronzo per l'Italia. Cina battuta 23-21. L'Italia è medaglia di bronzo della spada donne a squadre, dopo aver battuto 23-21 la Cina. La squadra azzurra è composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, e l'ultimo dei tre incontro di Fiamingo è stato disputato da Alberta Santuccio. Spada donne, bronzo per l'Italia. Cina battuta 23-21. L'Italia è medaglia di bronzo della spada donne a squadre, dopo aver battuto 23-21 la Cina. La squadra azzurra è composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, e l'ultimo dei tre incontro di Fiamingo è stato disputato da Alberta Santuccio.